Nata per promuovere eventi culturali in città, tra gli scopi dell'Associazione Promozione Donna c'è anche quello di far conoscere e valorizzare anche gli scrittori molisani. Durante l'ultimo incontro, tra letture e intermezzi musicali, si è parlato di fiabe e leggende della nostra regione, sconosciute ai più. Che è partita da un gruppo di donne, ma in realtà nella nostra associazione, che è composta da oltre 200 soci, abbiamo persone femminili e persone maschili. Noi siamo attenti alla cultura e quindi chiunque partecipa con noi a far uscire fuori questa cultura dalla nostra realtà molisana, che è un po' piatta, a noi fa piacere. Stiamo organizzando tutta una serie di eventi e in questi giorni abbiamo presentato un libro di Mauro Gioielli, che sono gli ultimi suoi lavori, dei lavori di ricerca proprio sulla tradizione molisana, con un occhio attento anche alla condizione popolare e tradizionale femminile. In effetti gli studi e le ricerche di Mauro Gioielli hanno permesso di riscoprire un patrimonio di racconti davvero ricco, per certi versi sorprendente. Molise è un ricchissimo patrimonio fiabistico, probabilmente fra i più importanti d'Italia a livello regionale. Credo che soprattutto due siano le fiabe fondamentali per la nostra letteratura tradizionale. Una è conosciuta col titolo della Penna del Pavone, una fiaba molto particolare, che ho raccolto a Isernia all'inizio degli anni Ottanta, e che trova riscontro in numerose regioni italiane, ma anche in altre aree extranazionali. Un'altra fiaba, conosciuta col titolo del mortaio, la regina furba, o anche con altre intitolazioni, è significativa perché probabilmente è la fiaba più femminista che si conosca in tutta la letteratura tradizionale mondiale.